grazie fausto grazie faustone ed è per forza dove cazzo bella raga mi è caduto la protesi del pene dove è finita e come faccio senza neanche quella bella master va bene sì no fra davvero non c'è il telefono qualcuno mi telefona trovato orello grande ce l'ho fatta ce l'ho fatta ma ce l'ho in chat eccoci qua tenaci comodi perché sarà una serata lunghetta sarà una serata raga questa purtroppo volevo riposare ma tocca fare una serata fino a mezzanotte almeno come minimo ce l'ho a fare la due lanza beh almeno adesso la due lanza c'è anche la cosa dei delle scommesse che sono molto belle quindi cercherò di fare diverse scommessine stasera è master facciamo le scommesse sui due lanti le possiamo anche fare tra noi della chat tra l'altro no no se c'è si scommettono i mio padre coins no no master sono duelli già finiti quindi puoi schippare tutto direttamente c'è puoi vedere il duello molto velocemente però c'è non c'è bisogno di aspettare i turni lunghissimi se in teoria si è a shiitaka però è andata così i had forgotten si potrebbe fare il torneo tre occhi io non credo che qualcuno qui abbia pronto il deck a tre occhi no rider non funziona così purtroppo c'è magari fosse pagassero in base a quanto possiedono mi dispiace sono il deck mutilati e il deck mostri rotondi pronti ok ok no non vanno bene sono dei due torneo carte solo gallo senga si può fare esistono le carte che lo segna sono tante dove sta il poghello ma non mi sembra il giorno adatto per avere il poghello a schermo questo che sono raga facciamo un power nap di mezz'ora per giocare dai facciamo così bimbi